Sì, vedo la sguerra che ride, quando lei è esterna. Oggi gli ho detto guardi mi passi in onda senza neanche salutarmi, non voglio intrattenere neanche più rapporti di carattere umano. Sì, allora sta festa di Natale la interpella, la festa di Natale sarà organizzata e a breve daremo comunicazione. Daremo comunicazione, certo. Ma in un luogo diciamo che metta gioia. Un luogo di viva gioia. Che metta gioia insomma. Soprattutto perché metta i soldi qualcuno per fare questa festa. Posso anche far pagare il dottor Sagasta se vuole, se insiste, se no per carità veniamo dalle caratteristiche. Ci pensa lei, ci pensa. Quindi qual è il problema? Se no ci ratuniamo. La portata la portiamo noi, la passata come ha detto la porta Sagasta, quindi qual è il problema? Se avete i soldi di contenuti io volevo chiedere al dottor Catalani, segue Twitter, sa cos'è più o meno? Insomma ci sono dei trends. Oggi c'è la... Dei trends che sono gli argomenti più twittati dagli utenti di tutto il mondo. Oggi in Italia c'è la mia prima volta allo stadio. Lei ce la può raccontare la sua prima volta allo stadio? Ci sentiamo domani allora? Certo che sì, ci sentiamo domani che non sento. Ci sentiamo domani. Io non vi sento? No lo so perché a volte succede. C'è Twitter che è questo social network molto importante, ci sono dei trend che sono poi gli argomenti. Non va, a volte succede. La gente dice la propria opinione, scrive. Io non vi sento però voglio salutarvi soprattutto il dottor Sagasta perché purtroppo non sento più. Va bene. Però così non è giusto. Va bene, a domani. Se mi sentite a domani. Va bene, grazie. Noi la sentiamo ma lei non sente. No, a domani, a domani, a domani. Grazie, grazie. A nostro Maurizio Catalani, mamma mia che amarezza però. Era anche carina secondo me. Era carina, però l'amarezza è tanta. Fare il giudice di me stesso non è facile. Perché proprio ti mortifica, capito? Cioè qualunque argomento tu ponga lui, lui ti mortifica proprio, non ti considera. Perché questo secondo te? Non lo so. Perché c'è una tua pochezza che giustifica l'atteggiamento del catalanico? Credo sia quello. Credo anch'io. Alla fine dovrebbe subentrare in me la rassegnazione. Credo anch'io sia quello. Comunque tu la prossima volta la passi a me e gliela pongo io così è sicuro che si risponde. Che risponde, certo. Il sottoposto mi chiedeva. Questa è una buona. Certo. Penso prima volta allo stadio. Questa è una buona. E dopo questa tempesta di fregnace è subito GR. Movene Natale. Non tengo ranare. Me leggo giornale. E me vada a cucà. E vada a cucà. Netto. Evviva. Auguri.